Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla Fipilì. Due chilometri di coda per lavori in direzione mare tra Lastra, Signa e Ginestra Fiorentina. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Rallentamenti per traffico intenso in A1 in direzione Roma tra Barberino del Mugello e Calenzano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze-Impruneta. Sulla statale Due Cassia nel comune di Impruneta fino a domani per il restringimento della carreggiata senso unico alternato all'altezza del chilometro 285. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!